Buonasera, buonasera amici, un commento alla fine di questa terza giornata di Serie A. Un po' di sorprese, certamente ci sono state, a parte la Juve, poi in questo campionato veramente comincia a non capirci quasi niente, perché una classifica che si delinea un po' anomala con una Juve a 9, ovviamente, il Sassuolo a 7, poi la partita di Torino, Torino-Spal non è ancora terminata in questo momento, quindi se dovesse perdere la Spal, rimane a 6 insieme a Fiorentina e Napoli, poi l'Inter, eccetera, eccetera. Quello che sorprende è il tonfo del Napoli, un tonfo del Napoli, un Napoli mai esistito, mai stato in partita. Attenzione, Ancelotti, Ancelotti, non devi rompere il giocattolo costruito da Sassuolo. Sei venuto a Napoli, hai trovato una squadra già collaudata, che poi quella era e quella è, al di là di piccolissimi e ininfluenti innesti, e vedo che fai stare fuori, insomma, dei giocatori importanti come Mertens, che domenica, la settimana scorsa, entrò nel secondo tempo, come questa sera. Secondo me devi far quadrare in modo che Mertens è un giocatore imprescindibile, stava appena entrato, stava segnando, anzi è stato l'unico giocatore del Napoli ad andare proprio vicino al gol. Quindi la Fiorentina stenta, vince con l'Udinese, sorpresa non tanto a Bergamo, dove l'Atalanta perde in casa, perché l'Atalanta c'era da, attenzione, da sospettare un calo, un po' una crisi dopo quella bruttissima eliminazione in settimana dall'Europa League, quindi è andato in crisi anche l'Atalanta, un Chievo Empoli, un pareggio che, che ve lo dico a fare, era scontato già dalla notte dei tempi, e la Lazio ha trovato difficoltà con l'Ostrosinone, anche se, devo dire, una Lazio che ha sciupato di tutto, di più, incredibile. Il Napoli, l'abbiamo detto, fuori d'artificio a Sassuolo, Sassuolo-Genoa 5-3, dove il protagonista assoluto, secondo me, è questo grande giocatore Piontech, Piontech del Genoa, che già in Coppa Italia, io lo dissi, e me lo sono preso anche a Fantacalcio, io lo dissi, che era un giocatore forte, ha fatto quattro gol in una sola partita a Lecce, e non fu, quindi non è stato un fulmine a Cieserino, perché poi si sta ripetendo, perché tre partite di campionato e tre gol, non è poco, non è poco per una squadra come il Genoa, che non è che c'ha grandi ambizioni. Quindi, attenzione a questo giocatore Piontech, che veramente è molto, molto, molto bravo. Il Torino ancora sta vincendo con la spalla, e quindi viene questa sosta, poi vedremo dopo le nazionali cosa succede, molti, molti, forse benediranno questa sosta, come credo anche Barcellone dall'Inter, che deve recuperare alcuni calciatori alla migliore condizione, perché poi verranno le coppe, e voglio dire, il PSV Eindhoven ha fatto sei gol in campionato, il Barcellone ne ha fatto otto, stanno già super, super, super avviati in forma, noi balbettiamo ancora, attenzione, quindi, quindi in questa sosta mettiamoci sotto e cerchiamo almeno di raggiungere una condizione decente. Va bene, questo è tutto per la terza giornata di campionato, grazie che mi seguite e iscrivetevi al canale. Buonanotte a tutti, ciao!